Scaricava direttamente a mare Multato per 12.000 euro La guardia costiera ha sanzionato il proprietario Di un'abitazione a Forio che aveva attivato Uno scarico di reflui domestici senza La prevista autorizzazione Acquista un fuoribordo su internet ma non gli viene Mai consegnato, ennesimo caso di truffa Ai danni di un ischitano truffato che paga quasi 1.000 euro per un motore marino Denunciato un torinese cinquantenne Bernardo Cisi, gestione scelerata Del sistema adesiano Ferrandino Per il consigliere di opposizione ad Ischia La stipula del mutuo di 9 milioni di euro Per pagare il vecchio debito del Cisi Ricadrà interamente sulle spalle dei cittadini Forio, pericolo e degrado Alla spiaggia di Cava dell'Isola La gente prende il sole tra pali di ferro Rotti ed arrugginiti in una zona a rischio frana Mettendo a rischio la propria salute La denuncia del consigliere regionale Borrelli Giovanni Desiano Sfrattato dal porto senza avere la barca La denuncia arriva dal consigliere comunale Di opposizione di Lacquameno Mennella ancora tra i pali della nuova Ischia Il porterone anche quest'anno scenderà in campo A dispetto dei suoi 40 anni Pronto a dare il suo importante contributo alla squadra Dopo il Tg per gli anni della storia dell'Ischia sulla verde La partita Ischia-Olbia stagione 97-98 Benvenuti al consueto appuntamento Con informazione di Tele Ischia Dunque l'Europa è venuta da momenti bui Ed è diventata una realtà Questo è il messaggio Oggi noi dobbiamo garantire un'Europa sicura E vivere secondo i nostri principi Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel Nella conferenza stampa col Premier Renzi E il Presidente Francesco Hollande A bordo della porta aerea Garibaldi A largo di Ventotene La Germania ha cambiato la propria posizione Sulla gestione dei migranti Molti hanno pensato che dopo la Brexit Che l'Unione Europea fosse finita Non è così Abbiamo voglia di scrivere il futuro Lo ha detto invece il Premier Matteo Renzi Abbiamo voglia di scrivere una pagina di futuro E per questo lavoreremo Per una maggiore integrazione Nel settore della difesa e dell'intelligence Ma anche di questioni economiche Di misure forti per la crescita E di investimenti di qualità Ha aggiunto il Premier Spetta l'Europa a proteggersi Ma anche a cogliere chi è spinto all'esilio Mettendo spesso a rischio la propria vita Lo ha detto il Presidente francese François Hollande Dobbiamo proteggere meglio le frontiere europee E condividere di più le informazioni di intelligence Vogliamo anche maggior coordinamento Più mezzi e più risorse Nel settore della difesa europea Ha ancora detto il Presidente francese Nell'ambito di un'attività programmata di controllo Finalizzata alla prevenzione di reati ambientali E al contrasto degli scarichi abusivi E degli illeciti commessi in danno Al pubblico demanio marittimo Lungo il litorale costiero Gli uomini della Guardia Costiera di Ischia Hanno accertato che presso una residenza privata Sita nel Comune di Forio Era stato attivato uno scarico di reflui domestici O ad essi assimilabili Direttamente in mare Senza la prevista autorizzazione ambientale Allo scarico Al proprietario dell'abitazione È stata combinata una sanzione amministrativa Di 12.000 euro Sono in corso ulteriori accertamenti Su altri scarichi domestici individuati I carabinieri della stazione di Ischia Hanno denunciato per possesso di documenti Di identità falsi Un 17enne di Napoli, Santa Lucia Studente ed incensurato Durante i controlli di avventori Negli esercizi pubblici I militari dell'arma Hanno sorpreso il 17enne In possesso di una carta di identità falsa Che riportava i suoi dati Ma con diversa data di nascita Che lo rendeva maggiorenne Per poter accedere liberamente Nei locali pubblici notturni E consumare alcolici Il documento è stato sequestrato E il minore è stato affidato Ai genitori Ancora una truffa online Ai danni di un cittadino ischitano La polizia ha infatti deferito All'autorità giudiziaria Untornese AG 51 anni Per il reato di truffa Ai danni di DCM Isolano 41enne L'isolano dal sito subito.it Aveva acquistato Un motore marino Con i 40 cavalli Marca Yamaha Per 950 euro Più spese di spedizione Da qui La solita procedura Concordata col venditore Con l'accredito Su post e pay Per poter ricevere L'oggetto acquistato Dopo circa 10 giorni Dall'avvenuto pagamento E non avendo ricevuto Il motore marino Dopo aver più volte Contattato il venditore Ed aver ricevuto risposte evasive L'isolano ha deciso Di rivolgersi alla polizia Ritenendo di essere stato truffato Dagli accertamenti Effettuati sulla carta Post e pay E sul numero di cellulare La polizia è risalita Alla generalità Del venditore di Torino Che è stato così deferito All'autorità giudiziaria Per il reato di truffa E continua incessantemente L'attività di prevenzione Messa in campo Da parte degli uomini Del commissariato di Ischia Agli ordini del vicequestore aggiunto Dottor Mannelli Nella serata di sabato E fino alle prime luci dell'alba Nell'ambito dei controlli Finalizzati alla verifica Di presenze malabitose sull'isola Sono stati predisposti Numerosi posti di controllo E sono state identificate 180 persone Di cui 47 pregiudicati 70 autovetture E 32 motoveicoli Elevate 12 contravenzioni Per violazione del codice della strada Sottoposto a sequestro amministrativo Un motociclo Risultato privo Della copertura assicurativa Sono state inoltre sanzionate Due persone residenti Nel comune di Napoli Per la violazione Del divieto di sbarco Al porto di Ischia Sono iniziate le operazioni Per lo smontaggio Del pontile 1 Italia 90 La ditta incaricata Dalla regione Campania Settore dei Mani Marittimo Sta rimuovendo lo scheletro di ferro Che ha fatto tanto discutere In questi ultimi mesi Di inattività Essendo divenuto Solo un ammasso di ferraglia Proteso nel porto di Ischia A malapena nascosto Dalle installazioni Con messaggi promozionali Che ne cingevano Una parte a terra Pessimo biglietto da visita Per i tanti turisti Finalmente mettiamo fine Allo scempio Ha commentato il vice sindaco Enzo Ferrandino Sentiamo Pontile 1 Italia 90 Sono iniziati i lavori Per lo smantellamento Però lavori che vanno Un po' a rilento Vice sindaco Sì Sono iniziati questi lavori Sono lavori che richiedono Sicuramente il tempo tecnico Per essere realizzati E portati ad esito So che nei prossimi giorni Verranno utilizzati Diciamo delle attrezzature Delle strumentazioni Più potenti Perché Adesso stanno intervenendo Sulla parte Diciamo Superiore del calpestivo Rimuovendo i grigliati Che erano presenti E Quando invece Dovranno operare Per sfilare O tagliare i piloni Che Diciamo Sostengono Tutta la struttura Che sono immersi Nell'acqua Del porto E conficcati Nel Diciamo Nel fondo Del porto Verranno utilizzate Delle strumentazioni Adatte Con dei Pontoni Più grossi E più Potenti Tanti anni Siamo stati A rivendicare Lo smontaggio Diciamo Del pontile 1 Che era oggettivamente Uno scempio Per Gli occhi dei turisti Che arrivavano Nell'ambito portuale Riscontravano La presenza Di questo Relitto Se così possiamo dire Lì in Bella Mostra Speriamo Che quanto prima La regione Riesca a completare Questo intervento Da noi tanto Diciamo rivendicato Il richiesto I tempi Sono stati certamente Stabiliti I tempi di completamento Dell'intervento Allora Salvo Diciamo Difficoltà tecniche Riconnesse Al Diciamo Rimozione Di piloni Sottostanti Diciamo L'operazione Dovebbe terminare Per la fine del mese Massimo I primi giorni Del mese Di settembre Chiaramente Noi saremo vigili Sotto questo punto di vista E laddove dovessimo Riscontrare Delle lungaggini Ingiustificate O dei rallentamenti Saremo pronti A sollecitare Gli uffici competenti Della regione Campania Nel settore Della mobilità portuale Questione Cisi Per pagare un debito Di circa 4 milioni Con la cassa depositi E prestiti Si stipula Un mutuo Di 9 milioni di euro Ma che percentuali Di interesse Hanno applicato A chiederselo Il consigliere di opposizione Del comune di Ischia Carmine Bernardo Che aggiunge Questa gestione scelerata Ricadrà sulle spalle Di noi cittadini Sentiamo Bernardo Parliamo di Cisi Con Carmine Bernardo 9 milioni Che dicono Alcuni sindaci Non pagheranno I cittadini Ah sì? Per la verità Non mi risulta Che gli enti Abbiano entrate Diverse Da quelle Che gli danno I cittadini Nel caso di specie Il Cisi O Levi La sua partecipata L'unica entrata Che ha Sono le bollette idriche Non ci sono altre entrate Quindi Per pagare un debito Bisogna pagarla Con le entrate Le entrate Che le danno I cittadini Questa vicenda Dei 9 milioni Di euro Guarda veramente Una vicenda Scandalosa Innanzitutto Non è assolutamente Chiara Perché come da me Richiesto di un'interrogazione Al sindaco di Ischia Non riesco a capire Come per Un debito Portato in bilancio Di confronto Della cassa Depositi e prestiti Di circa 4 milioni E 300 mila euro Oggi Si stipoli Un mutuo Di 9 milioni Di euro Ma che percentuali Di interesse Hanno applicato Noi sappiamo Che gli enti pubblici Stipolano muti A tassi Irrisori Inferiore All'1% Quindi Secondo me C'è qualche altra cosa Sicuramente Non serve Ad apparare Solo quel debito Di 4 milioni E 300 mila E oltre poi Al fatto Di questa variazione Di bilancio Per un milione Di euro Che fanno Senza dire Da dove Prendono questi soldi E' il modo Di gestire Gli enti pubblici Che ha caratterizzato L'ultimo ventennio Della politica Eschitana In cui Giosi Ferrandino Da una parte E Domenico Di Siano Da un'altra parte Sono stati Gli enti pubblici Artifici E ancora oggi Questi due personaggi O come dice De Luca Personaggetti Vengono seguiti Da tutti i sindaci I quali appresso A loro Fanno sempre Quello che dicono loro Cioè Fanno pagare a noi I guai Che la gestione Del Cisi Per tutti i progressi Rapporti Progressi fatti Ben conosciuti E che sarebbe Ci vorrebbero 10 trasmissioni Adesso Per raccontarle Nuovamente Hanno portato Un disavanzo Che oggi E 9 milioni Di euro E che state tranquilli Pagheremo noi Anzi Non pagheremo noi Perché Non penso che avremo La fortuna Di arrivare al 2045 Pageranno i nostri figli I nostri nipoti E anche i pronipoti Questi personaggi Ci hanno portato A far pagare Poi i nostri pronipoti Stiamo parlando In effetti Della gestione Zabbatta Nasce tutto da lì Carmine Ma diciamo Che la Nasce Che lì È nato Questo buco Sicuramente Le origini Sono queste Assunzioni Di cui Ancora oggi Ne beneficiano Consiglieri comunali Che sono a supporto Di Giosi Ferrantini E che fanno Tramite il Cisi Elevi La loro campagna Elettorale Quindi tutte queste Tante assunzioni Di segretari Controsecretari Tieni presente una cosa No Lì facciamo Le buste paga Le fa un impiegato Del Cisi Non c'è un'azienda Ischia Che non ha esternalizzato Le buste paga Se noi esternalizziamo Le buste paga Pagheremo una metà Invece qua La fa un consigliere comunale Le buste paga Che è dipendente Del Cisi Che è un fatto Assurdo Nonostante Tutte le denunce E gli appelli A fare qualcosa La situazione Di degrado e pericolo La spiaggia libera Di Cava dell'Isola Forio Continua a essere Insostenibile E inaccettabile A denunciarlo il consigliere Regionale dei Verdi Francesco Borrelli Postando un video Sul profilo Facebook Chiedendosi come faccia Un comune A consentire che la gente Faccia il bagno E prenda il sole Tra pali di ferro rotti Arrugginiti e pericolosi Non ci sono controlli E le recinzioni Messe per evitare Che si acceda Alla parte di spiaggia Considerata pericolosa Per il rischio di frana Sono ormai inutili Visto che centinaia di persone Ogni giorno L'attraversano senza problemi Mettendo a rischio La loro salute E anche la loro vita Bisogna intervenire Immediatamente Ha detto Borrelli Rendendo reale e concreto Il divieto di accedere A quella parte di spiaggia Con un controllo continuo Da parte della Polizia Municipale Che permette l'accesso Solo alla parte non a rischio Quindi nell'immediato Bisogna mettere subito In sicurezza l'area Per garantire una permanenza Senza rischi Sull'unica spiaggia libera Dell'isola Ha continuato il consigliere Regionale dei Verdi Per il quale le condizioni Di cava dell'isola Sono la dimostrazione Che per certi sindaci Chi non può accedere Ai lidi a pagamento Non ha diritto Di andare al mare Visto come si tiene L'unica spiaggia libera Ischitana Borrelli inoltre si chiede Anche se sia lecito Che un ristoratore della zona Si sia nei fatti Impadronito di parte Della spiaggia Affittando lettini e ombrelloni Pur se non ha Una concessione Per farlo Sono stato invitato Con una convocazione D'urgenza Consegnatemi Dall'ufficiale giudiziario A liberare un presunto Posto barca Nel porto di Lacameno Che io non occupo La denuncia arriva Dal consigliere comunale Di minoranza Giovanni Desiano Che aggiunge L'affidamento del porto Ad un gestore arbitrario E dannoso per l'ente Siamo in dissesto E l'unica entrata Che avevamo Era il porto turistico Che negli anni scorsi Incassava 550 mila euro Oggi il gestore Paga un canone Di 170 mila euro E in questi giorni Ha chiesto anche Uno sconto Sentiamo E' stato praticamente Diramato un invito Dal gestore del porto Con una convocazione D'urgenza A diversi cittadini Per liberare I posti barca Secondo il gestore Occupati abusivamente Che praticamente Mi ha convolto Direttamente In modo anomalo Perché io non sono Proprietario di barche Ormeggiate Nel porto Attualmente Ce l'avevo l'anno scorso Quest'anno Siccome mi sono trovato Nella situazione Di essere un consigliere Di minoranza E non approvare Assolutamente Le misure Che sono state prese Per questo affidamento Che ritengo Del tutto arbitrario E dannoso Per l'ente Praticamente Per questa mia Attività politica Contraria All'affidamento del porto Mi sono visto recapitare Dall'ufficialo Giudiziario Questo avviso A comparire D'urgenza Per liberare Un presunto posto Barca Che io Non occupo Assolutamente Il mio messaggio Ai cittadini Credo che sia Di prendere coscienza Non rimanere Passivi Alla situazione Che si sta Verificando In questo paese In cui Tutti sappiamo Che siamo stati Dal commissario Siamo stati Dichiarati In dissesto E l'unica Attività Che poteva portare Dei soldi Al comune Praticamente È il porto Che vediamo qua Adesso il porto Vorrei far chiarezza Negli anni precedenti Incassava Come solamente Per concessioni Qualcosa come 550 mila euro Il canone È stato ridotto A 170 mila euro Quindi praticamente A un terzo Di quello che Introitava Fino a due anni fa Per di più Il gestore Settimana scorsa Ha recapitato Al comune Praticamente Una richiesta Di sconto Sul canone Perché Diceva Che il comune Non gli aveva Fornito Tutti gli specchi A quei disponibili Liberi E quindi Ha avuto Un danno Economico Non indifferente Vorrei far notare Che siamo Nella settimana Di ferragosto E basterebbe andare Adesso a fare Un giro sui pontili E vedere che i pontili Fondamentalmente Sono mezzi vuoti Quindi non vedo Quale sarebbe Poi il danno Economico Arrecato Da 20 barchette Che sono qui Ormeggiati O che stanno Nello specchio Agua Antistante La battigia A questo gestore Io penso che ormai Siamo all'assurdo E che i cittadini Di Laccamino Si debbano pur rendere conto E non debbano vivere Nella paura costante Che ci possano essere Ripercussioni Voglio dire Siamo in uno stato Di diritto Quindi Non è necessario Avere paura Di certi personaggi Quando ci starà Da fare Io Carmine La minoranza Consiliare Siamo disponibili A ricevere Chiunque Praticamente Che ci porti Le sue rimostranze A fare tutti Gli atti Previsti Dalla legge Finalmente I lavori Presso la piazza Di Citara Forio Si avviano a conclusione Inoltre Sono stati Piantumati Nove alberi Di olivi E al centro E al centro del piazzale Farà bella mostra Di sé Una fontana La cui ultimazione Bisognerà aspettare Il prossimo mese Di settembre Ce ne ha parlato Augusto Coppola Cittadino molto attento Al suo territorio Sentiamo Augusto Coppola Piazza di Citara Una piazza che In effetti È stata un po' Attenzionata da te Sia per le brutture Ma adesso anche Per ciò che Di positivo Si sta facendo Ulivi Una fontana Che va In fase terminale Sì sì Certo Le piante di ulivo Detto dall'inizio È stata una scelta felice Di questa amministrazione Alla fine Il progetto È stato completato Anche se ci sono state Resistenze Soprattutto dall'altro lato Della piazza Per Diciamo L'installazione Di queste piante Hanno messo Nove bellissime Piante di ulivo La fontana Sta Diciamo Quasi per essere Completata Ovviamente Se ne parlerà A settembre Ormai Come al solito Si è tardivi Sulle iniziative Sembra una bella fontana Mi aspettavo Un intervento Più invasivo Invece Mi sembra anche Una bella cosa Onore al merito Quando bisogna Riconoscere Probabilmente La piazza Incomincerà a vivere Un'altra Un'altra dimensione Soprattutto Se si riesce A eliminare Gli abusi E gli scempi Che sono stati fatti Forse la piazza Dicitara Diventerà una piazza Possiamo dire Adesso si aspetta Anche un controllo Per quanto riguarda La sosta I veicoli E situazioni simili Questo si vedrà Ovviamente Mancano Mancano Delle aree di sosta Ma Ci sono parecchi parcheggi Diciamo In zona Quindi il problema C'è e non c'è Insomma Non penso che si debba Parcheggiare in piazza O che si debba Parcheggiare lungo la strada Che già è stretta E qui ci sarebbe Anche da dire Un po' Che potevano Anche fare Diversamente Però E' andata così Comunque in ogni caso Va bene Va bene Il parcheggio E' l'ultima cosa In questo caso In arrivo La stancata di settembre Per le famiglie italiane Che con la riapertura Delle scuole Dovranno mettere mano Al portafogli Per acquistare libri Zaini Quaderni E corredo scolastico Vario per gli studenti Negozi e supermercati In tutta Italia Spiega il Codagon S'hanno già rifornito Gli scaffali Di tutto il locorrente Per la scuola Si va da diari E quaderni low cost A zaini e astucci Griffatissimi Con le marche del momento Sempre più richieste Dai giovanissimi In base alle prime stime Dell'associazione Per il corredo scolastico I prezzi al dettaglio Saranno stabili Rispetto al 2015 Per l'anno scolastico Quindi Una famiglia media Dovrà mettere in conto Una spesa annua Che sfiorerà I 500 euro a studente Qui va aggiunto Il costo per i libri di testo Altra voce Che inciderà pesantemente Sui portafogli Delle famiglie Tra corredo e libri di testo Denuncia il Codagon La spesa complessiva Può raggiungere E superare I 1.100 euro a studente Una vera e propria stangata Per le tasche degli italiani In una piccola guida Altargata Marco Polo TV Ci sono le 10 chiese Più belle d'Italia Dove celebrare Il proprio matrimonio Nei primi posti Spopola la campania Medaglia di bronzo Al terzo posto La chiesa di Santa Maria Del soccorso a Forio La facciata È adornata Da maioriche del 700 Raffiguranti La passione E alcuni santi Alla nona posizione Figura procida La chiesa della Madonna Delle grazie Risalente al 700 Lo sport Il calcio Primo test Per il nuovo Real Forio Di misteri in pagliazzo Dopo circa 10 giorni Dall'inizio Della preparazione E Biancoverdi Hanno disputato Un amichevole in famiglia Più che altro Un'occasione utile Per cominciare Ad assimilare Le idee di gioco Del nuovo tecnico Dopo un intenso Lavoro atletico Svolto col preparatore Michelangelo Di Maio Da qualche giorno E ferma i box Francesco De Felice Il quale ha accusato Un leggero affaticamento muscolare Il giocatore salernitano Classe 96 Ha ricominciato a correre E oggi è ritornato Ad allenarsi Con il resto Della squadra Ed è iniziato Ufficialmente Ieri mattina Con staff e dirigenti Al seguito La nuova avventura Calcistica Dell'isola di Procida Con la partenza Per il ritiro Di Roccaraso Che si conclude Il 28 agosto Con l'amichevole Contro il Venafro Da oggi Tutte giornate Di doppie sedute Di allenamento Luigi Mennella Per il secondo anno Consecutivo Vestirà la maglia Della nuova Ischia Voglio ringraziare La società Ci ha detto il portierone Per avermi dato La possibilità Di giocare ancora Quando c'è da ripartire Io ci sono Cercheremo di dare Il massimo Sentiamo Siamo con Luigi Mennella Capitano della nuova Ischia Luigi È iniziata Una nuova stagione Tu ci sei Anche quest'anno Quali sono Le prime impressioni Innanzitutto Voglio ringraziare Comunque la nuova Ischia Nella figura Del presidente Il mister Isidore Gianni Che poi sono D'altronde Sono anche amici Che mi hanno dato Ancora una volta La possibilità Di giocare Perché avevo Ancora voglia Di mettermi in discussione Oggi è il primo giorno C'è un bel entusiasmo Intorno a questa squadra Poi speriamo Pian piano Di farlo Aumentare sempre di più Ecco Arriva un momento In cui è scomparsa L'Ischia Calcio Poi c'è la possibilità Adesso addirittura Di fare Un'eccellenza Cosa state pensando In questo momento Tu tra l'altro Ti hai vestito La maglia Dell'Ischia Ne sei stato anche capitano Ma Indubbiamente sarebbe bello Disputare un campionato Di eccellenza Di serie D Con la matricola Dell'Ischia Calcio Bisogna vedere anche A livello burocratico Come stanno le cose Perché un po' Leggo dai giornali Però da come si può capire Ci sta più una situazione Negativa che positiva Quindi la speranza È l'ultima a morire Però nel frattempo Noi ci alleniamo Siamo una squadra Che adesso partecipiamo Al campionato di promozione Per il secondo anno Quindi ci teniamo A fare bella figura E daremo il massimo Come sempre E poi alla fine Vedremo dove arriveremo Luigi come valuti Questa squadra Mister Isidoro Di meglio Ovviamente ha detto Che è incompleta Però qualche acquisto È già arrivato Qualcuno è andato via Sicuramente Trofa Un grande amico Ma indubbiamente L'assenza di Trofa Sicuramente È un'assenza pesante Però Il mister ha detto bene La squadra è in allestimento Siamo ai primi giorni Chiaramente Siamo partiti Come diciamo Aspettando sempre Un po' Le situazioni Dell'ischiacalcio Un po' in ritardo Diciamo di qualche settimana Però È chiaro che La squadra va Rinforzata Bisogna prendere Altri tre o quattro elementi Come giustamente Ha detto il mister E quindi Poi Vedremo Chi giocatore arriverà E sperando Deve venire sempre Con la testa A darci una mano Ti stai allenando Al Mazzella Giggino Fiore Magazziniere Penso che si respira Finalmente qualcosa Di ischia Dopo anni in cui La squadra è stata portata A Napoli Ci sono state tante problematiche Ma Il ritorno qui Io l'ho detto prima Parlavo appunto Con Giggino È stato un ritorno Come ritornare E ricordare Un po' il tempo Che ho passato Qui sul campo Per me Il Mazzella è stato Un punto di partenza Quando ero ragazzo È stato un punto Di arrivo Quando alla mia età Sono ritornato Diciamo nel cazzo Dilettantissimo Con la Serie D Ho fatto gli ultimi anni Di Lega Pro Quindi Non potevo chiedere di più Adesso sono ritornato Sempre al segno del destino C'è sempre Quando si deve ripartire Oppure C'è sempre Prendiamolo sul lato positivo Quindi Questo è il mio stadio Sono nato qui Quindi Non posso chiedere di più Alla vigilia Dell'inizio del campionato Di Lega Pro Che non vedrà Partecipare l'Ischia Dopo il fallimento Decretato dall'attuale società Guidata dall'amministratore Unico Vicky Di Bello Teleischia torna a proporre Le gare più belle Della storia Dei colori gialloblè Infatti torna la C1 Stasera su Teleischia Con la gara Ischia-Olbiat Stagione 97-98 Una partita ricca Di calciatori di qualità Divenuti protagonisti Nei campionati superiori Per ricordare gli anni Della storia Delle Ischia-Isola Verde Seguendo il filone Dell'evento Organizzato da Enrico Scott E appuntamento a questa sera La partita andrà in onda Tra poco Dopo questo telegiornale Con le successive repliche E prima di chiudere Uno sguardo al meteo Con aria che sarà Nel complesso limpida Per l'arrivo della Tramontana Che spingerà aria secca e fresca Temperatura comunque in diminuzione Venti forti da nord E mare poco mosso Grazie per averci seguito Vi lascio quindi Alla partita dell'Ischia Che fu E noi ci vediamo Come sempre Alle ore 14 Arrivederci